Discendente di Eolo, dio dei venti, e figlio di Esone, re della città di Iolco, Giasone guidò una delle imprese mitiche più celebrate dell'antichità, la spedizione degli indimenticati Argonauti, che doveva riportare in Grecia, dalla lontanissima Colchide, il famoso Vello d'Oro. Ma Giasone era un eroe particolare, egli non aveva scelto di cimentarsi nella difficile impresa per spirito di avventura, per desiderio di conoscenza o di gloria. A partire, in realtà, era stato costretto mentre si trovava sul Monte Pelio, per essere allevato dal centauro Chirone, il centauro che aveva cresciuto Achille, il regno di suo padre Esone era stato usurpato dal fratellastro Pelia. Quando, raggiunta la maturità, Giasone aveva fatto ritorno a Iolco, nessuno lo aveva riconosciuto, era vestito in modo strano, coperto da una pelle di pantera, una lancia in ciascuna mano e il piede sinistro scalzo, un particolare quest'ultimo che aveva insospettito Pelia. Pur senza riconoscerlo, aveva intuito che doveva guardarsene, perché un oracolo gli aveva detto di temere l'uomo con un solo calzare. E ben presto i timori di Pelia si erano dimostrati fondati. Alcuni giorni dopo, lo strano personaggio aveva chiesto udienza. Era suo nipote Giasone, che reclamava il regno che gli spettava di diritto. Pelia, che non aveva alcuna intenzione di cederglielo, escogitò un piano per sbarazzarsi di lui. Avrai il trono, gli disse, ma solo se riporterai in Grecia il vello d'oro. Impresa quasi impossibile. Non certo una sine cura. Si trattava di recuperare il vello, d'oro per l'appunto, del prodigioso montone che tempo addietro aveva salvato due giovani da morte sicura, trasportandoli in Colchide. Un giorno Atamante, re di Coronea in Beozia, convinto dalla sua seconda moglie, aveva deciso di sacrificare a Zeus i due figli di primo letto, Frisso e Delè. Altro tema frequente nei miti, quello della seconda moglie che vuole liberarsi dei figli di primo letto. Ma ecco, proprio nel momento fatale, un evento miracoloso. Un montone alato, dal vello d'oro, aveva rapito i due ragazzi strappandoli alla morte. Chi era stato il salvatore? Zeus stesso, mosso a compassione, dicevano alcuni. La madre dei ragazzi, Nefele, la nuvola, dicevano altri. Fosse come fosse, il montone volò lontano, verso est, ma il viaggio era lungo ed Delè era precipitata e annegata nel mare che i greci avrebbero chiamato l'Esponto, mare di Delè, oggi mare di Marmara. Frisso era arrivato sano e salvo in Colchide, dove il re Eete, figlio del sole, lo aveva accolto benevolmente, così benevolmente da dargli in moglie la figlia Calciope. In cambio Frisso aveva sacrificato il montone a Zeus e ne aveva offerto il vello al re che lo aveva consacrato ad Ares. Lo aveva inchiodato a una catena nel bosco sacro del dio e aveva messo un drago a custodirlo. Questo l'antefatto. Ed eccoci alla spedizione, all'incontro con Medea. A bordo della nave Argo, sulla quale stai fiore degli eroi greci, i celebri Argonauti, Giasone parte e dopo infinite peripezie arriva in Colchide. Consapevole che il suo obiettivo non può essere raggiunto senza il consenso di Eete, cerca di convincerlo a donargli il vello. Il re, che ovviamente non ne ha alcuna intenzione, gli pone una condizione. Giasone dovrà fare quello che egli, Eete, fa ogni giorno. Al mattino aggioga due tori dai piedi di bronzo, di sua proprietà, che spirano fuoco dalla bocca, poi li conduce in un campo e lo ara. Nel solco così tracciato non semina grano, bensì i denti di un serpente, dai quali nascono giganti armati. Quindi a sera compie la mietitura, falciando i giganti, mentre questi lo assalgono e tentano di ucciderlo. Tutto questo fa ogni giorno Eete e questo dovrà fare Giasone, se vuole il vello d'oro. Superfluo a dirsi, l'impresa è impossibile. Ed ecco intervenire Medea, una delle figlie di Eete. Credono tutti di conoscerla Medea, la donna che per vendicarsi di Giasone, l'uomo che l'ha tradita, uccide i due figli avuti da lui. Ma questo non è che uno dei volti di Medea, una delle storie che si raccontano di lei. La più celebre certamente, a tramandarcela, è stato Euripide. Ma per cercare di conoscere Medea, e se possibile capirla, Euripide non basta. Bisogna partire da prima e da più lontano, dal paese in cui è nata e in cui vive sino al momento, per lei fatale, dell'incontro con Giasone. E bisogna anche cercare di capire che razza d'uomo era questo Giasone. Medea dunque non è greca. Fino all'arrivo della nave degli Argonauti, vive tranquilla nel suo paese agli estremi confini del mondo civile, la Colchide, onorando la dea Ecate, di cui è sacerdotessa. Ma quando Giasone sbarca, e il suo destino cambia, Medea si innamora. È preoccupata per lui, ha paura che muoia, vuole salvarlo a ogni costo. E sarebbe in grado di farlo se lo decidesse. In quanto sacerdotessa di Ecate, dea della magia, legata al mondo delle ombre, Medea conosce pozioni misteriose. Ha poteri che potrebbe usare per consentire a Giasone di impadronirsi del vello. Medea però esita, non vuole tradire padre e patria. A prendere la difficile decisione la aiuta la sorella Calciope, i cui figli, recatisi in Grecia con il padre Frisso, erano ritornati in Colchide con gli Argonauti. Aiuta Giasone, la supplica Calciope, se lo farai salverai i miei figli. Dopo una difficile lotta interiore, dando ascolto al suo stesso fortissimo desiderio, Medea consente e dà a Giasone un unguento che spalmato sul corpo e sullo scudo lo rende invulnerabile. Il vello d'oro è conquistato, ma l'ira di Ete è terribile. Per salvarsi e per amore di Giasone, Medea si imbarca con lui e abbandona la patria. È una persona nuova, se prima era timorosa, sempre incerta sul da farsi, tormentata all'idea di dover scegliere tra dovere e amore. Dal momento in cui la decisione di salvare Giasone è presa, si trasforma in una donna dal carattere inflessibile, capace, senza ripensamenti né rimorsi, di scelte terribili. Una donna che non si ritrae neanche di fronte al delitto, neppure quando questo delitto è l'omicidio. Medea si trasforma in qualcosa di simile a quello che oggi chiameremmo un serial killer. Ma un serial killer uccide spinto da un'incontrollabile pulsione a uccidere. Medea no, no, Medea uccide per amore di Giasone. Dalla nave che la porta lontano, Medea scorge lo scafo del padre Eete lanciato al suo inseguimento. Le navi del re sono veloci, gli argonauti stanno per essere raggiunti e Medea compie il suo primo delitto. Assieme a sé, sulla nave Argo, Medea aveva portato il fratello a Sirto. Lo uccide, lo smembra e getta i pezzi del cadavere in mare, costringendo Eete a fermare la corsa per raccoglierli uno a uno. Gli argonauti riescono così a fuggire e al termine di lunghe peripezie raggiungono Iolco. Durante la lunga assenza, Esone è morto per mano di Pelia. Convinto che Giasone non avrebbe mai più fatto ritorno e sicuro che l'omicidio sarebbe rimasto invendicato, Pelia aveva deciso di uccidere Esone. Questi gli aveva chiesto l'estrema grazia di scegliere come morire e si era suicidato avvelenandosi con il sangue di un toro. Su Giasone grava a questo punto un dovere sociale e morale, deve vendicare la morte del padre. Il compito toccherebbe a lui, non a Medea. Ma ormai la vita di Medea si identifica con quella del suo uomo. Ama chi lui ama, odia chi lui odia, vuole quello che lui vuole. Tra le sue arti magiche c'è il potere di ringiovanire le persone e le figlie di Pelia sono preoccupate per l'età avanzata del padre. Per dare prova dei suoi poteri, Medea mette a bollire in un calderone un vecchio montone che ritorna agnello. Convinte dalla dimostrazione, le figlie di Pelia l'autorizzano a ripetere l'esperimento sul padre che però, a differenza dell'ovino, muore atrocemente bollito. Giasone e Medea devono abbandonare Iolco, cercare un rifugio in un luogo lontano. La città che li accoglie come esuli è Corinto. Dieci anni di convivenza matrimoniale, due figli, una vita serena, poi Giasone tradisce e abbandona Medea per sposare la figlia di Creonte, re di Corinto. Della rivale di Medea Euripide non ci dice il nome, altrove viene chiamata Glauce, più raramente Creusa. Ma il nuovo matrimonio non è tutto. Per volere di Creonte, Medea e i suoi figli dovranno andarsene da Corinto. Facilmente intuibile dunque lo stato d'animo della donna quando Giasone, con incredibile spudoratezza, cerca di convincerla che sposerà Glauce non per il proprio bene ma per quello di lei, Medea e dei loro figli. L'ho fatto per poter vivere con dignità e senza privazioni, sapendo bene che il povero è evitato da tutti, anche dagli amici. L'ho fatto per educare i miei figli in modo degno del mio nome e generando dei fratelli ai figli che ho avuto da te per metterli tutti nella stessa condizione. L'ho fatto per vivere felice dopo aver riunito la famiglia. Per Giasone la colpa dell'incresciosa situazione è solo di Medea, è lei che si ostina a non capire che la sua scelta è fatta nell'interesse suo e dei figli e che, come tutte le donne, pensa solo al letto. Ed ecco il vecchio già noto motivo, i mortali dovrebbero potere generare i figli in modo diverso e la razza delle donne non dovrebbe esistere, così non esisterebbe alcun male per gli uomini. Parole già sentite in bocca a Ippolito, ma che dette da Giasone suonano ancora più incredibili. Giasone ha avuto tutto da Medea, ma ha l'impudenza di negare. Esalti troppo i tuoi meriti, io credo, invece, che soltanto Afrodite mi abbia salvato nella mia impresa. Tu sei intelligente, ma ti dispiace ammettere che Eros, con le sue frecce infallibili, ti ha costretto a salvare la mia vita. Ma non basta ancora, non solo Medea non avrebbe fatto nulla per lui, sarebbe Giasone ad averla beneficata. Comunque tu mi abbia aiutato, a me sta bene, ma in cambio della mia salvezza hai ricevuto molto di più di quanto tu non abbia dato e te lo dimostrerò. Prima di tutto abiti in Grecia invece che una terra barbara, conosci la giustizia, usi le leggi e non la forza bruta. Tutti i greci conoscono la tua sapienza e sei famosa. Se vivessi agli estremi confini della terra, nessuno parlerebbe di te. Personaggio davvero intollerabile questo Giasone, opportunista, falso, vigliacco. Medea ormai ha capito, sa quel che deve fare e ordisce uno dei suoi piani. Fa sapere a Giasone di essersi persuasa della bontà delle sue ragioni e gli chiede di supplicare Creonte di chiedergli che almeno i bambini possano restare a Corinto. Credulone quanto vigliacco, Giasone non ha alcun sospetto, evidentemente non ha proprio capito chi è Medea, quel che sente, quel che pensa, quel che è capace di fare. I bambini, preparati da Medea, vanno alla reggia portando un presunto dono di pacificazione, una corona d'oro e un peplo ricamato, così belli che Glauce non resiste e li indossa immediatamente. Ed ecco che all'improvviso il suo volto sbianca, la bava le cola dalla bocca, dalla corona divampano le fiamme, il peplo divora il suo corpo, non c'è scampo, né per lei né per Creonte, che a Corso, alle sue grida, la abbraccia cercando di salvarla. Ma la vendetta di Medea non è che all'inizio. Non sarebbe Medea se si accontentasse di queste due morti. Giasone deve essere distrutto, inesorabilmente, e quel che annienta un uomo non è perdere la sposa, è perdere i figli, la discendenza, la sopravvivenza della stirpe. Medea deve uccidere i suoi stessi figli e lo fa trafiggendoli con la spada. Vendetta è fatta, Medea lascia per sempre Corinto sul carro mandato dal sole padre di suo padre. In Euripide il racconto finisce così, ma la storia di Medea continua. Prudentemente Medea si era assicurata una via di fuga ad Atene. Quando, in visita a Corinto, il re Geo le aveva confessato la propria temporanea incapacità di generare, Medea gli aveva promesso di fargli vincere la sterilità con le sue pozioni, in cambio di ospitalità ad Atene in caso di bisogno. Eccola dunque alla reggia di Egeo, dove trova una sistemazione confacente alle sue origini regali. Egeo la sposa e dal matrimonio nasce un figlio, cui viene dato il nome di Medea. Ma neppure ad Atene le sarà possibile restare. Un giorno si diffonde la notizia che sta per arrivare il giovane Teseo, il figlio che Egeo aveva avuto da un precedente matrimonio. Sempre intricate le vicende del mito. Dopo averlo concepito, Egeo aveva pregato il saggio Pitteo di prendersi cura di lui e gli aveva affidato una spada e un paio di sandali da consegnare a Teseo come segnale di riconoscimento al momento del ritorno in patria. Medea pensa immediatamente al futuro di Medea. Se Teseo tornerà, il trono sarà sua. Giocando sulla diffidenza il sospetto che il marito, ormai vecchio e stanco, nutre nei confronti di tutti, lo convince che lo straniero che sta per arrivare rappresenta un pericolo. Deciso ad ucciderlo, Egeo offre un banchetto in suo onore. Il vino, come sempre, scorrerà abbondante e quello di Teseo sarà avvelenato. Ma quando già il veleno è nella coppa, Teseo estrae la spada lasciatagli dal padre e riesce a farsi riconoscere. Prima che Teseo possa bere, Egeo rovescia il vino per terra, lo abbraccia e lo riconosce come figlio dinnanzi all'assemblea dei cittadini. Per la prima volta i piani di Medea falliscono. Ed eccola ancora una volta in fuga. Ormai deve lasciare la Grecia, non le resta che rifugiarsi alle estremità orientali del mondo dove è nata. E se ne va con il figlio Mede perdendosi in un luogo imprecisato sui lontani, misteriosi, alti piani iranici. Nella tragedia di Euripide Medea, al di là del suo carattere selvaggio e dell'atrocità del suo gesto, appare, ed è la prima volta nella letteratura greca, come una donna pienamente, lucidamente consapevole delle discriminazioni di cui il sesso femminile è vittima. Nella celebre invettiva in cui all'inizio della tragedia lamenta l'ingiustizia della sorte femminile non parla solo di sé, dei suoi mali personali. Alle donne di Corinto, con cui anche se straniera si identifica in ragione dell'appartenenza sessuale, si rivolge parlando dei mali comuni indistintamente a tutto il genere femminile. Premetto che le cose sono cambiate rispetto ai tempi in cui Omero raccontava dell'adulterio di Afrodite. Ora non è più lo sposo a offrire doni al padre della sposa, ma il padre della sposa a dare una dote alla figlia. Quindi l'invettiva all'inizio della tragedia che Medea rivolge alle donne di Corinto, parlando dei mali comuni indistintamente a tutto il genere femminile, è questa. Tra quante creature hanno anima e ragione, noi donne siamo le più infelici. Prima ci dobbiamo comprare uno sposo a caro prezzo e prenderci un padrone per il nostro corpo e questo è il male più doloroso. L'incognita più grande, poi, è se questo padrone sarà buono o cattivo. La separazione è un disonore per le donne, non si può ripudiare il marito. Un uomo, quando si sente oppresso dalla convivenza in casa, può uscire e liberare il proprio cuore dalla pena con chi gli è amico. Noi, invece, siamo costretti a vedere una persona sola. Dicono di noi che viviamo al sicuro dentro casa, mentre loro combattono in battaglia. Pazzi! Preferirei trovarmi tre volte in prima linea che partorire una volta sola. Ma se da un lato si identifica con le donne di Corinto, dall'altro Medea tiene a distinguersi da loro. Lei è diversa e la sua diversità rende la sua sorte ancora peggiore. È un punto questo che Medea tiene a mettere in evidenza. Lei è più infelice delle altre donne perché è anche una straniera che ha perduto per sempre la propria patria. Euripide insiste sullo stato di esoli di Medea sin dall'inizio della tragedia. Voi, dice Medea alle donne di Corinto, qui avete patria, casa paterna e amici, avete tutti i beni della vita. Io senza patria, io sola, in terra straniera, depredata e tradita da un uomo infame, non ho madre, non fratello, non ho parente ove trovare rifugio in questa tempesta. E più avanti. Io dove fuggo? Quale città mi accoglie? Chi mi concederà un asilo? Chi mi darà un rifugio fidato, sicuro? Medea è diversa, soprattutto perché è straniera. Secondo un'interpretazione diffusa, la sua diversità sta nella mascolinità del suo carattere. Certo, Medea non è una qualunque moglie abbandonata e non si comporta come tale. Una moglie di regola subisce, al più, se propensa al gesto eroico, commette il suicidio. Medea no, non subisce, non si presta a giocare il ruolo della vittima, cambia le carte del gioco e ne diventa protagonista, facendo di Giasone la vittima. La parte di lei che fa questo, soprattutto quando uccide i figli, è stato detto, nel linguaggio della tragedia, non è rappresentata come femminile. Medea parla e agisce come un uomo che compie una pratica profondamente radicata nella cultura maschile greca, la vendetta. Può essere vero, ma la diversità che causa la sua tragedia non è il carattere, è l'etnia, è lo stato di esule. È questa sua condizione che la spinge a uccidere i figli. È il fatto di non avere prospettive, di non avere futuro, il fatto di avere perso tutto e di non avere altro da perdere, quel che la spinge al gesto estremo. Sono molti i volti di Medea e hanno ispirato le interpretazioni più diverse. Non è un caso, certo, se nel ventesimo secolo Medea è diventata il personaggio tragico che più di ogni altro si è prestato a rappresentare la tragedia dell'oppressione in tutte le sue forme, da quella di genere a quella dei popoli o delle culture i cui diritti sono stati e vengono negati. Nel 1933 un'attrice nera, Agnes Straub, mise in scena una rilettura della trilogia dedicata a Medea da Franz Grillparzer che si intitola L'ospite, gli Argonauti e Medea. Questa messa in scena per protestare contro il razzismo nazista. Nel 1949 Corrado Alvaro, nella lunga notte di Medea, presentò l'uccisione dei figli come il disperato definitivo gesto d'amore di una madre esule, vittima di intolleranza e persecuzioni, destinata, come i suoi figli, a una vita di stenti e peregrinazioni. Ultimo ma non ultimo, nel 1990 in Sudafrica la protagonista di Demea, Medea, era una principessa nera abbandonata da un jasone olandese. A distanza di secoli Medea continua a essere fra noi.